Senso di solitudine, di angoscia interiore o suggestivo senso di pace nel gustarmi un piattino di sushi in un ristorante completamente solo? In realtà non è una cena, è uno spuntino pre-sonno. Sono retuce da una giornata burrascosa e prima di andare a dormire mi sono fermato a un suscetto pre-notte giusto per indurre un pochino meglio il sonno. Ma voi come la vedreste? Scrivetelo nei commenti. Quando vi capta di stare un po' da soli, in pace con voi stessi, un pochino esiliati, un pochino in disparte dal mondo e dalla normale routine della vita quotidiana, vi sentite più in pace o più soli e quindi in sofferenza? Ma chi ci conosce meglio di noi stessi? Stare soli rigenera. Ma quale dieta? Vai col secondo piatto. A casa non ci voglio andare perché voglio continuare a viaggiare. Troppo wasabi, mi sono sfornato.